Riconosciuto da una pattuglia dell'esercito che presidia il quartiere Piave, Ahmed Shridi, detto Bandana, tunisino di 27 anni, è stato arrestato dalla polizia. Clandestino e ritenuto dalle forze dell'ordine un elemento fondamentale nello spaccio di stupefacenti amestre, in particolare nell'area di via Cappuccine e via Fogazzaro, due strade divenute nell'ultimo periodo un supermercato della droga aperto 24 ore su 24. La polizia ritiene anche che l'arrestato sia l'autore dell'aggressione di domenica 10 luglio ai danni di un residente di via Fogazzaro, malmenato davanti ai figli dopo che aveva rifiutato l'acquisto di stupefacenti. Un episodio che aveva aumentato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, l'allarme in una zona della città che si sente sempre meno sicura. Pochi giorni dopo, Giorgio Deste, assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, aveva effettuato un sopralluogo accompagnato tra gli altri dal comandante della Polizia Municipale Marco Agostini. Nel frattempo la polizia era già sulle tracce di bandana, aveva ricostruito minuziosamente i fatti ed evidenziato all'autorità giudiziaria l'elevato allarme che l'aggressione aveva procurato nella zona. Ora sono in corso accertamenti per l'espulsione dal territorio italiano del tunisino, dopo che le autorità consolari hanno fornito le sue esatte generalità. L'uomo aveva più volte fornito identità false. In via Fogazzaro si tira un mezzo sospiro di sollievo, ma la strada da percorrere è ancora lunga, come ci racconta la moglie del residente aggredito, che preferisce non essere riconoscibile. L'arresto non ha fermato un'attività di spaccio che per ora prosegue come nulla fosse. Sinceramente è cambiato di poco. Mettono il loro passaggio soltanto quando passano le pattuglie della polizia e poi tornano. Adesso passando sotto casa ne ho visti parecchi, sempre gli stessi, non ci sarà lui, però la paura comunque rimane, sono tutti uguali per me in questo momento. Quindi non ha avuto un effetto deterrente nei confronti degli altri l'arresto? No, secondo me no. Grazie. 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 Grazie.